I carabinieri del Comando Provinciale di Catania, coordinati dalla Procura Distrettuale Etnea, stanno tuttora ricercando Sciuto Antonino, 38enne di San Giovanni La Punta, resosi responsabile nella nottata odierna sul lungomare di Acitrezza dell'efferato omicidio di una giovane 26enne precedentemente sua fidanzata, colpita da numerosi colpi di arma da fuoco. Il presunto colpevole, a seguito di una denuncia presentata dalla vittima, era già stato tratto in arresto dai militari della stazione di Tre Castagni in linea con le disposizioni della Procura di Catania nel giugno scorso. Nella circostanza il soggetto si era reso responsabile, tra l'altro, di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Successivamente tradotto agli arresti domiciliari, era stato scarcerato dal GIP che ne aveva disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento.